Ormai è chiaro che Lorenzo Spolverato ha qualche problema con la sua impulsività e spesso partorisce frasi infelici, come quando ha chiesto a Shaila se in passato uno dei suoi ex l'avesse picchiata o quando ha detto che non permette a nessuno di mettergli i piedi in testa, tanto meno ad una donna. Ieri notte il GFino ha discusso in maniera accesa con Shaila, e dopo ha avuto uno sfogo durante il quale ha fatto un mezzo scivolone. Lo sfogo di Lorenzo Spolverato? Basta non mi merito tutto questo, io fino a ora non le ho insultate. Dopo la discussione con Shaila Lorenzo si è appartato con Amanda e durante lo sfogo si è morso la lingua dicendo che la gatta e la prestes, meriterebbero un ragazzo che, sono stufo, ma proprio stanco. Che schifo guarda, ci sono stati scontri troppo forti con parole che non mi merito, e non mi sono mai meritato. Non ho fatto nulla di male. Non ho mai insultato loro fino a due giorni fa. Fino alla puntata sono sempre stato corretto buono. Ho sempre cercato di chiarire ed essere calmo e comprensivo. Se non voglio perderle, sì, anzi, in questo momento le voglio fuori dalla casa. Loro si meritano un uomo che, guarda non fatemi parlare che è meglio. Shaila invece ha raccontato della lite con Lorenzo a Pamela Petrarolo. Io gli ho detto, siamo amici, punto e basta. Ne sono uscita e basta. Mi ha detto, io mi sono sentito sbagliato. Mi si è girata la vena e ho detto, scusa? Sbagliato? Sei pazzo? Ma come ti permetti? Sei fuori? Mi è partito l'embolo. Sai che i malesseri fanno questo? Io so bene cosa significa essere sminuiti, perché ho avuto persone così. Non deve permettersi di dire che io lo scredito o lo faccio sentire sbagliato. Penso che sia un codardo, ma non è un'offesa, è una descrizione del suo comportamento.